Prima di proseguire con il programma abbiamo due prevenzioni speciali, vorrei chiamare il Vice Presidente del Comitato Regionale Lazio per la Direzione Fulgistica Italiana Franco Federici, insieme a lui una vecchia propria del calcio italiano, ha giocato nella Roma, è stato anche il calciatore della Nazionale Italiana e qui con noi Fabio Petruzzi. Fabio Petruzzi E ora chiamiamo sul ring due grandi, grandissimi protagonisti del cucinato italiano ed internazionale che hanno dato un lustro alla nostra box non solo in Italia ma nel mondo. Non gli sono state consegnate le citture che hanno vinto sul ring perché quando le hanno vinte non era prevista la consegna delle citture per il campionato d'Italia. E le consegnano oggi, signore e signori, tre volte campioni d'Italia tra il 1997 e il 1998. Già l'unicampione internazionale già sfidante al campionato d'Europa e già sfidante al campionato del mondo da mio mio Sandro Casamonica. Correa con un grande applauso pensando. e un grande applauso da a chi questa scendura la vinta tra il 1997 e il 1998. E' stato anche pluricampione d'Europa nella categoria che si supera nel Ceni e in Penter. e due volte sfidante al campionato mondiale Gianluca Blanco! Gianluca Blanco! Eccolo qua, decidute di campione d'Italia Maestro Blanco Federici per Sandra Casamonica Gloria Petruzzi per Gianluca Blanco Applausi Gianluca Blanco! Gianluca Blanco! Applausi Accorderei il vaso per Sandra Casamonica per Gianluca Blanco e un grande applauso a tutti i mucili che rappresentano il mucilato italiano nel mondo e che ringraziamo ovviamente grazie a Maestro Blanco Pedrinici grazie a Mario Petruzzi questa sera grandi nostri amici alla Powerbox Aurelio Santoro di Roma Applausi